Nell'Alessandrino i timori di cittadini e amministratori delle cinque aree che potrebbero ospitare il deposito di scorie nucleari preoccupano soprattutto le falde. Buonasera e benvenuti, sono rimaste cinque, sono tutte nell'Alessandrino le aree piemontesi che potrebbero ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari, una prospettiva che tuttavia preoccupa popolazione e amministratori, li ha incontrati Jacopo Ricca. Un Piemonte diviso sul deposito nazionale di scorie radioattive, da un lato Trino in provincia di Vercelli con il sindaco che autocandida al comune giudicato non idoneo da soggi in l'azienda di Stato che gestisce il nucleare, dall'altra le cinque aree dell'Alessandrino inserite tra i 51 siti adatti. Solo tra Castellette e Quarniente abbiamo dato più di mille pagine di controreduzioni tecniche nella quale spiegavamo le motivazioni per la quale il deposito non poteva essere fatto qua, quindi già hanno fatto un ricorso al TARA, è probabile che chiederemo una soffensiva di tutto il procedimento. Martedì ci sarà una riunione per far nascere un comitato contro l'autocandidatura di Trino. Noi abbiamo presentato però osservazioni per tutte le aree perché tutte le aree hanno delle criticità. È chiaro che ci doveva essere spiegato come mai Frugarolo è uscita come area mentre sono rimaste tutte le altre cinque. Tra gli esperti c'è chi boccia l'analisi dei rischi fatta da Sogin e ha prodotto uno studio che esclude l'idoneità dell'Alessandrino. Il mio parere è che si siano sottovalutate moltissime condizioni soprattutto dal punto di vista geologico sismico. Per tutti vale una condizione di elevato comunque rischio di inquinamento delle falde. Nell'area L8 tra Castelletto, Monferrato e Quarniento gli abitanti non hanno preso bene l'inserimento. È molto deprimente diciamo così. Qui è un po' un paradiso nel senso che siamo ancora in campagna in un'area che orograficamente è una tra le più apprezzate. E anche chi vive nell'area AL3 tra Oviglio e Alessandria è contro. Tutte le persone della zona qua la vivono con preoccupazione. Parliamo di un'area che è distante, esattamente un chilometro fatto con righello dalle abitazioni di Alessandria.